ah ecco perché la terra è piatta la terra piana la prima volta che qualcuno accenna l'idea della terra piana probabilmente è un concetto decisamente ridicolo è sinonimo di ritardato mentale di idiota e di altri termini dispregiativi e spesso creano rabbia quello che mi chiedo è perché le persone abbandonano la possibilità di ascoltare bensì attaccano l'idea della terra piana che prove hanno che viviamo su una terra palla che gira che schizza attraverso l'universo in uno spazio infinito molte persone compreso me stesso la prima volta che mi sono incontrato con questo concetto ho avuto la stessa identica repulsione di rifiutarlo noi crediamo di avere sufficienti certezze di vivere su una palla pertanto scartiamo a priori questa analisi senza pensarci su e questo succede fin tanto scatta dentro di noi l'idea di smantellare la terra piana perché siamo molto preparati e convinti che viviamo su un globo è in quel momento che le nostre vite si capovolgono non viviamo su una palla rotante tutte le immagini ufficiali della nasa sono state diffuse dai media mainstream delle agenzie mondiali più importanti ma nessuno dei loro giornalai si è mai reso conto della diversità di grandezza dei continenti dei diversi colori degli oceani delle terre emerse perché queste fotografie sono differenti ah ecco perché le fotografie della terra sono differenti hanno usato macchine fotografiche differenti non crederete veramente questo vero credere nella terra globo significa credere che succedono tutti questi movimenti sommati tra loro ma l'allineamento delle stelle non è mai cambiato dall'inizio dei tempi è un sistema solare impossibile a tutti gli altri pianeti comprese le loro lune succede esattamente la stessa cosa ma dicono rimangono tutti legati insieme grazie alla magica gravità col sole senza mai andare in conflitto l'un con l'altro non percepiamo nessun movimento della terra che gira proprio perché non gira rotte aeree sulla terra globo le stesse rotte aeree sulla terra piana se girate attorno al vostro quartiere non significa che il vostro quartiere è rotondo l'antartide è il litorale del grande lago terra la famosa biglia blu è stata creata con photoshop osservate le nuvole sono uguali sono state fatte col copia in colla ma con tutti i bravi elettricisti che ci sono nel mondo non ne hanno trovato uno in grado di sistemare tutti quei cavi e quei fili così in disordine lo spazio può essere l'ultima frontiera ma è stato girato in un semi interrato di hollywood raccontateglielo quando sono ancora piccini così loro lo crederanno per sempre possibile che in 34 anni che l'hubble orbita la terra non si sia mai girato una volta per scattare una vera immagine della terra curvatura della terra red bull distanza dalla terra 38,798 chilometri nasa distanza dalla terra 68.524 chilometri curvatura della terra ma dall'interno della capsula la terra è piana correnti a getto o jet stream hanno molto più senso sulla terra piana se un giorno avete una brutta giornata e non vi sentite molto svegli ricordate che molti dei vostri amici e parenti credono che questa spazzatura sia atterrata sulla luna la sola cosa che la nasa ha inviato nello spazio è la vostra immaginazione c'è anche il secondo canale youtube ma le vostre ricerche personali fatele attraverso il ricco indice alfabetico il libro del risveglio è disponibile in bianco e nero ed è a colori solo nel formato ebook accedendo a canal 104 plus telegram potete venire a conoscenza di argomenti che sono addirittura all'opposto di quello che la narrativa diffonde e anche qui avete a disposizione l'aggiornato indice alfabetico per una veloce consultazione o per scaricare qualche pdf interessante e ma solo se vi va potete sostenere canal 104 plus con l'energia monetaria del semplice valore di una buona tazzina di caffè grazie di aver guardato fine